Devo ammetterlo, io non ci credevo. Quando alla fine di ottobre Mario Draghi ha ceduto il posto a Christine Lagarde, erano in molti a credere ad avanzare l'ipotesi perlomeno che l'ex direttore generale del Tesoro, l'ex governatore della Banca d'Italia e l'ex presidente della BCE non ritenesse conclusa la sua carriera lavorativa. Ripeto, io non ci credevo, nel senso che, dopo tutto, insomma, dai, l'età della pensione l'aveva raggiunta, anzi, anche con la legge Fornero l'aveva ampiamente superata. Sì, è vero, ovviamente non pensavo che sarebbe andato ai giardinetti o a seguire i lavori di qualche cantiere aperto. Però ritenevo così che si sarebbe goduto gli anni della pensione girando un po' il mondo intascandosi qualche altro milioncino di euro con insulse e conferenze. Non credevo davvero ad una sua scesa in campo nel lagone politico, soprattutto perché mi chiedevo, ma chi lo vota? Beh, innanzitutto con quale partito si sarebbe presentato alle elezioni, con il PD, non ce lo vedo, con Renzi, rischia pure di non essere eletto, fonda un proprio partito, ma anche qui avrebbe fatto la fine di Monti, anzi, peggio, perché Monti, dopo tutto, ha fatto un partito dopo essere stato presidente del Consiglio, quindi, dopo tutto, nelle condizioni migliori, eppure è stato un flop totale, quindi quell'esperienza doveva indurre Draghi a pensarci tre volte prima di fondare un nuovo partito, e non ritengo che Draghi sia uno sproveduto, insomma, che avrebbe rischiato un simile flop. Quindi, insomma, restava solo una possibilità, si avrebbe potuto diventare presidente del Consiglio in questa legislatura. Però io non credevo neppure a questa ipotesi, perché è stato ribadito più volte che dopo questa esperienza del governo giallorosso ci sarebbero state solo le elezioni. E poi, insomma, mi domando, ma chi avrebbe votato la fiducia ad un governo Draghi dopo la drammatica esperienza del governo Monti? Quindi, insomma, scartavo tutte queste ipotesi. Ovviamente non avrei mai neppure potuto supporre una pandemia come quella del coronavirus. Ma, nonostante una situazione così emergenziale, non avevo comunque preso in considerazione un ipotetico governo Draghi. Draghi, da quando ha lasciato la sua poltrona il grattacielo di Francoforte, non ha proferito parola. Deve essersi rinchiuso in un eremo, almeno in questo ultimo mese. Poi, penso che, come tutti, insomma, se ne stesse nella sua dimora che immagino adorata. E invece cos'è accaduto? È l'incredibile. Improvvisamente, Draghi parla. E quale giornale ha l'onore e il privilegio di raccogliere il suo pensiero? Scommetto che l'avete indovinato. Il Financial Times. Eh, ti pareva. Vabbè. Allora, Draghi, per la verità, si rivolge genericamente ai governi. Ma, insomma, io di qualcuno ha ritenuto che, in particolare, si rivolgesse al governo italiano. Comunque, cosa ha detto Draghi? Allora, innanzitutto che quello che sta accadendo è una tragedia di proporzioni bibliche, sia per la perdita, naturalmente, di vite umane che per le conseguenze di carattere economico. Quindi, allora che ricetta dà? Non ci crederete. Aumentare il debito pubblico. Alla buon'ora, Mario! Un'idea geniale. Non ci aveva pensato nessuno. E prosegue così, Draghi. Una distruzione permanente della capacità produttiva e quindi fiscale sarebbe ancora più dannosa per l'economia. Viene da chiedersi ma abbiamo tempo? No, assolutamente no. Draghi, infatti, attenzione. Aggiunge. Agire, agire subito senza remore per i costi del debito visti i livelli attuali e probabilmente anche i futuri dei tassi di interesse. Allora, certo che permettetemi, questo qua veramente c'è una bella faccia perché sentire queste cose da uno che per decenni ha detto che il problema dell'eurozona ed in particolare dell'Italia era l'alto debito pubblico. Ma attenzione perché adesso Draghi dice qualcosa di veramente strano. Sentite. Livelli più elevati di debito pubblico diventeranno una caratteristica economica e saranno accompagnati dalla cancellazione del debito privato. Vabbè, allora che i livelli del debito pubblico diventeranno una caratteristica economica non è una cosa futuribile, è da decenni che gli stati continuano ad indebitarsi sempre di più. Ma è la seconda parte della frase che c'è un'affermazione di Draghi che lascia sconcertati. Gli alti livelli di debito pubblico infatti per Draghi saranno accompagnati dalla cancellazione del debito privato. Ma cosa vuol dire che verrà cancellato il debito privato? Quindi, ne so, anche il mio mutuo. Davvero, Mario, cioè dici sul sere il mio mutuo viene cancellato, non dovrò più pagare le rate restanti? Presumo proprio di no. Temo proprio che il mio mutuo dovrò pagarmelo io. ritengo che Mario Draghi quando parla di debito privato si riferisca ad altri. Però, adesso, scusa eh Mario, una domanda semplice, semplice. Ma come si fa a cancellare il debito privato? Perché chi è che se lo accolla questo debito? Perché, insomma, ritengo che anche tu insomma possa capire bene che se cancelliamo tutti i debiti privati stiamo anche cancellando tutti i crediti che sono stati erogati dalle banche. Insomma, tutte le banche falliscono. No. sentite cosa arriva a dire Mario Draghi. Le banche possono creare denaro istantaneamente, consentendo scoperti di conto corrente o aprendo linee di credito. Le banche devono prestare rapidamente fondi a costo zero alle società disposte a salvare posti di lavoro. Poiché in questo modo stanno diventando un veicolo per le politiche pubbliche, il capitale necessario per svolgere questo compito deve essere fornito dal governo sotto forma di garanzie statali su tutti gli ulteriori scoperti o prestiti. Né la regolamentazione né le regole di garanzia dovrebbero ostacolare la creazione di tutto lo spazio necessario nei bilanci bancari a tale scopo. Draghi comunista ma nemmeno Marco Rizzo era arrivato a proporre politiche così di sinistra ma chi l'avrebbe mai detto? Mario sicuro di star bene? E queste sono le parole con le quali Draghi conclude il suo intervento sul Financial Times la velocità è assolutamente essenziale per l'efficacia di fronte a circostanze impreviste un cambiamento di mentalità è necessario in questa crisi come lo sarebbe in tempi di guerra lo shock che stiamo affrontando non è ciclico la perdita di reddito non è colpa di nessuno di coloro che ne soffrono il costo dell'esitazione può essere irreversibile e allora adesso torniamo seri Draghi sul Financial Times non ha parlato da consulente ha parlato da premier e questo permettetemelo cari ascoltatori mi fa venire sudori freddi dai sudori freddi poi passo al delirium tremens pur essendo astemio eh l'ho preciso quando leggo il finale dell'articolo di commento apparso stamani sul quotidiano il tempo state a sentire perché è veramente agghiacciante se qualcuno ancora avesse avuto dei dubbi la nostra sola speranza è che le redini di questo paese finiscano il più in fretta possibili in mani così e il solo gesto che si chiede alla nostra balbettante classe politica è il passo indietro e l'invocazione di una guida così abbiamo bisogno di Mario Draghi e no allora se gli italiani dopo l'esperienza di mondo si lasciano infinocchiare un'altra volta con un altro governo tecnico stavolta guidato da Draghi bene io da subito naturalmente ritiro tutti gli apprezzamenti fatti al popolo italiano ma stavolta proprio non resisto più e me ne vado da questo paese perché è impossibile perché io capisco l'autolesionismo capisco anche il masochismo ma qua qua superiamo tutti i limiti qua si vuole arrivare all'autodistruzione io vi chiedo scusate ma voi sapete chi è Mario Draghi è il peggior nemico dell'Italia non solo è il maggior artefice della svendita delle nostre migliori aziende pubbliche ma è anche il maggior artefice delle sofferenze che gli italiani hanno dovuto sopportare negli ultimi decenni quanti italiani si sono suicidati in questi ultimi vent'anni è tutto per le folle politiche di austerity Mario Draghi è quello che ha fatto andare lo spread a 500 per costringersi ad accettare Mario Monti a Palazzo Chigi è quel Mario Monti che ha distrutto il tessuto sociale italiano con politiche da macelleria sociale politiche praticamente dettate imposte in combuta appunto con Mario Draghi sappiate cari italiani che accettare Mario Draghi presidente del Consiglio è fare il più grande affronto a quegli italiani che hanno pagato con la propria vita dalle politiche imposte da questo uomo possiamo accettare tutto ma Mario Draghi presidente del Consiglio no